Si ritorna in palestra in casa Scandone senza premi individuali, senza una posizione di partenza favorevole in questa postseason, ma con tanto buon umore. Come mai era accaduto in questo torneo? L'avere strappato i playoff all'ultima curva non era nelle aspettative di inizio campionato, ma nelle condizioni in cui versava il club bavellinese è il miglior risultato possibile. Ecco perché finalmente, dopo tanto tempo, qualche sorriso si è visto sulle labbra dei giocatori, mentre qualche dirigente ha tirato un sospiro di sollievo. C'è il desiderio della società di voler togliersi uno sfizio in questi playoff e dopo la rimonta impossibile nel campionato di Serie A di calcio si vorrebbe beffare chi per un campionato sano è stato sempre al vertice della Lega Basket di Serie A. Per farlo ci vorrebbe non solo un'impresa, ma soprattutto uno stato di forma eccellente da parte dei giocatori di coach Maffezoli, il quale valuterà oggi le condizioni fisiche di Caleb Green e Patrick Young. Considerando si giocherà una volta ogni due giorni al meglio delle cinque partite, qualche atlet dovrà obbligatorialmente alternarsi. Milano è sulla carta invincibile, ma si trova senza due pedini importanti come Nedovic e Gudaitis, a cui si aggiunge l'incognita Mike James. La scandone non avrà nulla da perdere e chissà che non possa essere un vantaggio. Grazie a tutti.